Buongiorno, siamo qui con Mauro Ghislandi e siamo al 18esimo congresso nazionale dei radicali italiani. Mauro, perché è importante partecipare a questo congresso e per te cosa vuole dire questo titolo del congresso? L'importanza per me c'è perché è la seconda volta che partecipo a un congresso, dopo quello del 2012. E' importante perché penso che siamo a uno snodo cruciale nella vita del movimento dei radicali italiani e in generale del mondo radicale. Quanto al titolo devo dire che mi piace molto perché torna a quello che era l'origine e quello che è sempre stato il punto chiave di quello che sono i radicali, cioè lo Stato di diritto, far rispettare le regole quando ci sono, contestarle anche pagando di persona con disobbedienza civile e dare importanza fondamentale alla persona e quindi ai suoi diritti. Questo è quello che io ritengo sia la cosa più importante.